Quattro i temi al centro del resoconto presentato a Giulianova dall'amministrazione comunale, turismo, commercio, eventi e polizia locale. L'obiettivo è stato quello di fare il punto del lavoro portato avanti in questi settori nei quattro anni di guida del sindaco Iman Costantini. Per l'assessore Marco Di Carlo l'occasione è stata anche quella di rendicontare tutte le iniziative e gli interventi portati avanti in questi anni. Un marketing turistico definito vincente che ha permesso di far conoscere ancora di più il comune costiero fuori dai confini regionali. Siamo riusciti ad attuare per la prima volta un piano di marketing turistico che ha portato in città un incremento importante, record, addirittura lungo quasi la costa adriatica e noi ci auguriamo di poter arrivare ad avvicinare se non superare le 600.000 presenze anche grazie all'incremento del gettito che abbiamo previsto nel regolamento e le tante attività che riproporremo e che ovviamente miglioreranno ulteriormente la promozione e la visibilità della città. Tanti gli eventi in programma per questa stagione estiva frutto anche dell'importante investimento messo in campo dal comune. Abbiamo investito tanto ma abbiamo investito tanto sul marketing territoriale nel senso che Giulianova oggi è conosciuta, è un punto di riferimento. Noi veniamo fuori da dieci anni veramente complessi e complicati dove la città era diventata fanalino di coda un po' su tutto. L'evento clou sicuramente sarà quello del 18 agosto con Gianni Morandi che non ha bisogno di presentazioni che verrà a Giulianova con un concerto oltretutto nella splendida cornice del porto.